Allora, buonasera signore e signori, partite fuori a questa serata così bella, con un pubblico così caldo, siamo a questo punto costretti ad eseguire per voi un pezzo, quasi mai eseguito fino a oggi, prima assoluta nazionale a Pia G. D'Arma, signore e signori, la quinta di per voi, silenzio! Grazie a tutti. No, bellissima volta. Grazie. Ciao. Ho io la pinta, ho io la pinta. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti